Un dialogo sereno, pudico, una conversazione tra amici. Con queste parole Papa Francesco ha identificato l'episodio in cui il Signore parla con Pietro sulla riva del lago di Tiberiade. A colui che lo aveva rinnegato, il più peccatore, Gesù chiede di pascere il popolo di Dio con umiltà e amore. Una missione da compiere dunque non da dominatore, ma sull'esempio del Figlio di Dio. E poi dopo tutta la vita al servizio del Signore, finì come il Signore, in croce, ma non si vanta. Finisco come il mio Signore? No. Chiede per favore, mettemi in croce con la testa in giù. Perché almeno si veda che non sono il Signore, sono il Servo. Questo è quello che noi possiamo prendere di questo dialogo. Di questo dialogo tanto bello, tanto sereno, tanto amichevole, tanto pudico. Che il Signore ci dia sempre la grazia di andare nella vita con la testa in giù. La testa in alto per la dignità che Dio ci dà ma la testa in giù sapendo che siamo peccatori e che l'unico Signore è Gesù. Noi siamo Servi.